Partiti Veloce all'esterno eccellenza con all'interno Revisigoto che in breve guadagna lo steccato e conduce davanti a Ciao Ciao quindi eccellenza centropista Winning Black poi segue Douche Bonner più indietro Cocktail Blu e staccata Loretana Siamo a 400 dal palo con in vantaggio Revisigoto nei confronti di Ciao Ciao eccellenza più a centropista cerca di avanzare anche Winning Black Siamo a 250 dal palo con Revisigoto che si mantiene in leggero vantaggio nei confronti di eccellenza quindi Douche Bonner nel tratto conclusivo Revisigoto si impone chiaramente mentre all'esterno Cocktail Blu emerge al posto d'onore su eccellenza Eccellenza andiamo a rivedere le immagini di questa seconda corsa di Agnano con Revisigoto velocissimo al via subito conquistato lo steccato per poi imporsi in scioltezza al posto d'onore emerge il 4 di Cocktail Blu su eccellenza quindi confermo 643 il probabile ufficioso arrivo della seconda di Napoli